No, non sarò io il candidato presidente. Non sarò io il candidato presidente. Giacomo Possamai lo dice chiaro e tondo, non sfiderà Luca Zaia. Il Partito Democratico dovrà trovarsi un altro alfiere per puntare alla poltrona di Governatore Veneto. L'idea era quella di affidarsi a un profilo giovane, di appeal, conosciuto, con esperienza amministrativa, l'identikit perfetto di Possamai, che però si sfila. Ringrazio tutti i tanti che in queste settimane hanno proposto e spinto per la mia candidatura con parole di stima. Però io penso che in politica sia importante fare le cose passo dopo passo e acquisire l'esperienza e la competenza necessaria per tutti i ruoli che potenzialmente poi si vanno ad occupare. Penso che questo sia il momento per me di un impegno più sul territorio e quindi penso che ci siano tante figure pronte per fare il candidato presidente contro Zaia che ha una capacità, un'esperienza, una storia importante. Penso che il centro di città deve decidere presto e in fretta qual è questa figura da mettere in campo. Il PD a questo punto dovrà decidere se fare le primarie e allora potrebbe candidarsi il capogruppo in consiglio regionale Stefano Fracasso oppure più verosimilmente se virare su Arturo Lorenzoni, attuale vice sindaco di Padova, candidato di coalizione civica. Queste dinamiche però si incrociano con le manovre di Italia Viva, di Renzi, di Azione, di Calenda e di più Europa della Bonino che al momento hanno deciso di stringere una sacra alleanza e di portare un loro candidato. Insomma, il futuro è ancora un grande punto di domanda per il Partito Democratico che osserva, vaglia le opzioni, si affaccia sul cortile politico Veneto un cortile che oggi scotta più che mai.